Il principe Andrew ha tenuto una sparatoria ieri, pochi giorni prima dell'udienza del tribunale di New York per le accuse di aggressione sessuale che sono state mosse contro di lui. Le fotografie mostrano il duca di York che ospita una festa privata con ospiti selezionati nella tenuta privata di Balmoral di 550 acri della regina. La sparatoria arriva nonostante la sfida legale che Andrew deve affrontare lunedì a New York. Questa settimana gli avvocati di Virginia Juffer hanno affermato di aver ottenuto la testimonianza di due testimoni chiave che affermano di aver visto Andrew con lei in due diverse occasioni, in un'intervista al Newsnight del 2019. Il duca di York ha affermato di non avere nessun ricordo di aver incontrato la signora Juffer. Fonti reali hanno descritto il comportamento del duca di York come sfrontato. Una fonte reale, parlando con Tessan, la scorsa notte ha detto. Questo è così sfacciato che è incredibile. Il principe Andrew va avanti come se niente fosse. È come se non avesse una preoccupazione al mondo. Una fonte reale separata ha detto al Tessan che il duca di York ha fatto arrabbiare i cortigiani anziani di Balmoral viaggiando per 500 miglia verso le islands martedì con la sua ex moglie Sarah Ferguson. Hanno detto. Sembra che stia correndo dalla mamma e che quasi lo stia ospitando. Nessuno vuole Andrew vicino a Balmoral. La signora Juffer afferma di essere stata aggredita sessualmente da Andrew a Londra e ha intentato una causa civile contro di lui. Il duca di York ha negato qualsiasi addebito e afferma di non avere alcun ricordo di aver mai incontrato la signora Juffer. Il team legale di Andrew insiste che è categoricamente negato che il duca di York abbia avuto qualsiasi forma di contatto o relazione sessuale con la Juffer e qualsiasi affermazione contraria è falsa e priva di fondamento.